guarda che ti ho visto eh eh ma non ti si può dire niente non si può neanche fare uno scherzo ciao come stai ciao bene bene e sono venuta a trovarti ti mancavo eh sì ho sentito la tua mancanza ero un po' stressata posso darti una carezza piano però posso toccarti aspetta ciao ciao e basta adesso però va bene mamma mia dai mi metto qua con te ah che bella giornata allora come stai è tanto che non ti vedo mi hanno detto che mi hai cercato e sì venivi sempre a trovarmi non ti ho più visto mi sono proprio preoccupato che bella pianta che ti sei fatto è fiorita tutta sta settimana non era così prima che bella e pensa che è un gelsomino è certo che l'ho fatta io chi la deve fare manchia sei bravo eh ma gli dai da bere perché ti vedo sempre lì fermo se non fai un cazzo e certo io vado a tutte le piante del mio giardino bravo bravo che bella anche questa l'hai presa da poco sì sì è nuova e bella quella però non so come si chiama ma come non lo sai scusa che cazzo di risposta è in natura Adamo e Eva non è che conoscevano tutte le piante dell'orto però poi per curarla ti servirà a sapere almeno il nome sai che le piante non è che si possono curare tutte così uguale Dio vede provvede anche per le piante del tuo giardino beh vabbè ah che bella la giornata oggi un po' di relax e beh che mi racconti ti vedo bene sei dimagrito ma va che dimagrito avrò mangiato guarda avrò preso tre chili dai ti vedo bene anche te hai fatto un po' di attività fisica io so che faccio sempre le mie camminate di mezz'ora a casa al mattino poi al pomeriggio sempre anche mezz'oretta sì sì mi tengo abbastanza anche se ogni tanto c'è un po' degli svarioni eh non sto tanto bene e sarà l'alcol saranno le sigarette tutti i viziacci ma veramente io non bevo non fumo non faccio niente non faccio queste cose non ho questi vizi non so chi te l'ha raccontato e mi ricordavo che però lo facevi fumavi tanto ma ero ragazzina ma mica sono più una ragazzina no no io non faccio niente figurati prima mi dici che mi trovi bene poi mi dici che mi trovi male deciditi mi hai detto prima che mi trovi bene adesso non va bene e ma se non vieni mai a trovarmi non mi racconti niente della tua vita io non posso sapere cioè ma fatti vedere madonna ma come sei carino sei andato dal parrucchiere perfetta posso toccarti qua non mi piace che bello è proprio bellino non mi iniziare a fare appiccicosa sì 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 dai adesso devo andare però ci ti vengo ancora a trovare però mi accetterai guarda se stai un po' al tuo posto volentieri perché tu però cerca di essere un po' meno antipatico eh perché sei un po' troppo snobbettino per i miei gusti siamo un po' snobbettini dai basta sì va bene ciao 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 ciao